La data dell'inaugurazione del nuovo ospedale di Ragusa, il NOR, Giovanni Paolo II, si avvicina e per i manager dell'Aspio Maurizio Rigò sarà un appuntamento cruciale per l'intera provincia di Ragusa. Il NOR rappresenterà un punto di svolta per la sanità iblea che finalmente si avvarrà di una struttura ospedaliera moderna e all'avanguardia. Cambierà come può cambiare nel momento in cui un ospedale a cui siamo affezionati, come il civile, un ospedale dell'epoca fascista, viene sostituito da un gioiello ipertecnologico di quelli che una volta chiamavamo gli ospedali all'americana. Un ospedale dove c'è spazio, dove c'è luminosità, dove ci sono stanze singole, stanze doppie, dove non ci sono più condizioni di accoglienza oramai inaccettabili, col bagno in tutte le stanze, con degli arredi nuovi fiammanti, con dei letti tecnologici, dove concentreremo tutti gli interventi più complessi e dove naturalmente ci aspettiamo che con un pronto soccorso veramente da IR, dove le emergenze vere vengono separate dalle richieste di intervento a bassa complessità, con una terapia intensiva e una terapia intensiva neonatale che chi vedrà capirà perché possiamo definirle veramente ipertecnologiche, con tutte le attrezzature che vengono solo dal soffitto, con dei pensili che sostituiscono tutte quelle impostazioni che erano, alla luce di oggi, poco comode, soprattutto per lavorare in emergenza. Stiamo parlando veramente di un livello di ospedale completamente diverso, l'ospedale nuovo dei Ragusani. Ovviamente, come accade per tutte le novità, ci sarà una prima fase di transizione. In tal senso l'Aspe ha già preventivato una campagna massiccia per informare tutti i cittadini sulle novità. Per 24 ore saranno attivi entrambi i pronto soccorsi del nuovo ospedale e dell'ospedale civile, ma poi tutto sarà dirottato presso il nord. Abbiamo lavorato in assoluta sintonia con l'amministrazione Piccitto e con il comando dei vigili urbani. Stiamo definendo il percorso attraverso cui le ambulanze faranno la spola dal civile al nuovo ospedale per trasportare i pazienti. Abbiamo definito insieme dove mettere la nuova segnaletica per spiegare a tutti che per 24 ore noi avremo due pronto soccorso aperto, quello del civile e quello del nuovo ospedale, fino a quando non chiuderemo il civile e il pronto soccorso sarà solo al nord. Ma tutto questo sarà indicato in maniera accurata e naturalmente noi durante i prossimi giorni non ci stancheremo di avvertire e di ripetere a tutti che ci sarà un momento dello shutdown in cui si chiuderà definitivamente il civile e porteremo tutto alla fine della prossima settimana al nuovo. Il manager di Coe infine ritorna ancora una volta sul reparto di malattie infettive di Modica. Essenziale è rassicurare i cittadini sul fatto che il livello di assistenza che avranno sarà superiore rispetto a quello che hanno oggi. I posti letto di malattie infettive attrezzati e pressione positiva per proteggerci dalle malattie più infettive che sono a Modica rimangono naturalmente invariati. Il supporto e la consulenza per le malattie infettive per i casi, permettetemi di dire, basta guardare i numeri degli ultimi tempi, saranno garantiti dai medici della postazione che comunque resterà a Ragusa perché noi a Ragusa attrezzeremo una seconda unità operativa di malattie infettive. Avremo malattie infettive a Ragusa, malattie infettive a Modica organizzate in maniera appropriata e diversa. faremo in modo che probabilmente all'ospedale Arezzo ci sia una base operativa di malattie infettive insieme alla unità operativa di malattie infettive a Modica. Quindi rassicuriamo tutti le competenze, il servizio e l'assistenza delle malattie infettive sarà solo aumentato. Grazie. 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 Grazie.